Ciao ragazzi e ragazze, buon lunedì. Nel video di oggi prendo ispirazione da una delle cose che mi avete segnalato e che mi ha più interessato ultimamente, ovvero un articolo che spiegava il concetto di acrasia, che ammetto di non conoscere precedentemente. E questo termine è un termine greco, ne parlavano già Aristotele, in realtà altri filosofi greci nei loro scritti, è molto simile alla procrastinazione, significa però avere la consapevolezza di dover fare qualcosa ma non riuscire a farlo, che non significa rimandare ma significa forse più una sorta, anche etimologicamente, di debolezza di volontà. Ora io non sono un'esperta ma vorrei solo portare questo concetto sul piatto perché effettivamente parlando spesso e volentieri di scuse ci perdiamo nella definizione della procrastinazione stessa o di fenomeni psicologici che spesso non conosciamo e che magari decodifichiamo nel modo sbagliato. Quindi acrasia, debolezza di volontà, letteralmente effettivamente questa sensazione pressante di dover fare qualcosa ma non riuscire a farla, ecco soprattutto perché spesso e volentieri non si sa esattamente cosa bisogna fare a differenza della procrastinazione. Ecco, si sono sprecate tantissime menti sicuramente più illuminate e competenti della mia su questo ma volevo dare la mia opinione, forse accettare di sospendere il giudizio su noi stessi e capire che va bene a volte non sapere cosa fare e usare questo come gancio, come grip, come spinta per poter agire in maniera più metodica e meno anche giudicante e quindi alla ricerca delle cose che ci appassionano di più, forse potrebbe essere una via d'uscita. Fatemi sapere cosa ne pensate. Stop whining! Fatemi sapere cosa ne pensate.